video di Fortnite, ragazzi di stile c'è stato il cambio season e oggi noi andrò a fare una reaction a tutte le cose nuove già vedo nuove robe e mi piacciono veramente un sacco andiamo qua con nessuno veniamo subito per avviare dai 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 che frego dai dio che c'è ancora una roba per entrarci battaglia c'è frozen siamo un pochino frozen c'è Venom ok raga guardiamo il trailer il cubo è tornato è tornato il cubo ricordate che su un posto c'è una macchinetta del cubo tutto si collega lini robot tutto allo sarsi cosa significa tutto questo tanti cubi nuove mappe cubi che si spostano cos'è questo state scherzando dovevate sapere che saremmo tornati si credevate di aver salvato la vostra misera realtà ma l'avete solo preparata per noi su raccogliete pure cosa resta del vostro esercito approntate le difese ricordate solo che quando avremo finito rimarrà soltanto il nulla raga mi lascia raga mi è lasciare Ned anche ok ok guardate scartiamo tutto 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 un'idea che c'è i bach lì ha preso giocatore che ti aspetta taglia bene 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 ok equipaggio avanti vabbè momento già ragazzi vi bacca per cosa passa e lui a 9 stelline ok speriamo tutto bene ok ok va bene però questa nuova modalità non è normale guardiamo se c'è l'evento se possiamo proprio rifare l'evento no niente di niente strano la vede tutto quanto questi nuovi posti what ferma dietro negozio oggetti ragazzi vedere quanto è cambiato anche quello che i nostri oggetti non è cambiato di molto tutto è cambiato tutto c'è stata una grande disfatta andiamo a vedere cosa succederà poi abbiamo detto di una partita del singolo speriamo bene nessuno lo invitare no no ok al culo perché ragazzi proveremo anche questo cosa è successo non ho capito che figo però avete visto ragazzi il video bellissimo ragazzi non capisco perché cioè cosa è successo ok ok mettiamo che giù il tuo calca ok ok ah guarda la tua battiglia ti manda la tua battiglia ok ok muoviamoci ok dai muoviamoci però cos'è sembra un pattigione un giorno sono i ragazzi dobbiamo provare a fare questo qua ragazzi c'è tutto cos'è questo non si può spaccare cosa bella si distrutte molti pezzi la nave ma ne ho tipo tipo qui non si distrutte non si distrutte ma c'è vicino queste navi c'è strane è uno dei cubi sono i cubi magnifico veramente magnifico veramente magnifico ho già visto il divento ok che strano cos'è che strano cos'è l'acqua rossa prendiamo ragazzi un'arma e andiamo subito come io ho detto tutto quanto oh va bene che non ci fa schifo che cos'è quelle macchie ok 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 cos'è ho capito ancora di che cosa siamo anche in set top ci mancherebbe no no anche lui c'è shield lo spado da bomba ah kill 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 ok 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 questo ragazzo non ha scelto ok sono andato a 5 gioco ok raga ok ok raga c'è anche questo per un attimo raga c'è andare là ci vado cerco un attimo un pompa mi va bene anche un pompa vieni ancora non mi fa schifo voglio un pompa che figata ci sta andiamo le meri che comunque nei fatti non ci fanno mai male vada andiamo ho preso un pochino di regna 88 anni io credo anche i regatti colori senza spuglio però non so Strasza Ragazzi ho giuro che tu sia un cubo Pompino Fiumma Hai che si va Devo darmi un po' bene Guarda Non sono Guarda Quindi ragazzi per sembra che te mi posso muover così Che figata Quando qualcuno posso iniziare a saltare Un colpo Ci sta Posso prendere anche i colpi Va bene Ragazzi sono diventato raggio Da prima che ero raggio Ragazzi ho lo skin di prima Quella nuova Oh che è una jump Perché ragazzi voglio accendere adesso Perché ragazzi devo andare un po' più al centro Qua è legna Legna Legniamo Che mostra Passo al centro Che vuoi quella roba Che vuoi azzì da dietro da dietro pam pam 24 abba viva nulla in più di me niente di che guarda bomba verde ce l'ho già ok siamo in 17 ho fatto 23 kill sono in singolo come qua sto vai andiamo andiamo comunque ragazzi con la macchina veramente strana e bella abbiamo un limonetto e lo dobbiamo prima si questo ok ok qui mi chiamo Oh, no. Un attimo. Un attimo. Ragazzi, questo io potrei concludere qua. Anzi no. Ci sta un botto. Torniamo ragazzi subito alla lobby. O che sta arrivando, non so. Scusate. Ciao, ciao.